Ricordo ancora la prima sposa che ho truccato, le sue lacrime di commozione me le porto dentro, gli abbracci, la felicità di sua madre che mi guardava con lo sguardo rapito. Oggi, se ritorno indietro nel tempo, posso dirti che è stato quel momento a farmi amare il mondo del wedding, a farmi capire quanto fossi portata a intraprendere questa carriera come make-up artist e hair stylist. Ebbene sì, ho scelto il cammino delle emozioni forti dove un make-up e un'acconciatura non servono solo ad essere bellissime in foto, rendono un ricordo indelebile e ancora più speciale per la vita. Vivo il mio lavoro così, con quel desiderio intenso di realizzare i sogni delle mie clienti, per farle sentire se stesse e a loro agio. Perché ricordalo, nessuna donna è uguale ad un'altra. E per tirar fuori l'unicità serve lavorare sulla tua personalità, anche per un make-up, anche per un'acconciatura. Ti invito a contattarmi per raccontarmi i tuoi desideri. Scrivimi anche solo se hai voglia di conoscermi meglio. Sarà una ricchezza per entrambe, te lo assicuro.